A una cinquantina di metri da questa strada e comunque all'interno, non nella strada. Dentro la vegetazione? Dentro la vegetazione, sì. Comunque è confermato che si tratta del viviano? No, questo non ve lo posso dire io, non lo so, perché ancora devono... Anche se poi però per esclusione... Noi qua non troviamo un cadavere al giorno, ne troviamo quindi l'ipotesi è quella. Com'è vestita? No, non l'ho vista, non ero io. Non avete la certezza ma è altamente probabile che sia lei? Assolutamente, sì. La certezza matematica sono l'inquirente che devono fare l'esame a Vutopote e tutte... Parenti ci sono? Non ho visto materialmente la salma, quindi non... Parenti ci sono? No, non ho visto, meno che io non dico no. E poi i palazzo non li facevano accedere nei luoghi perché è una zona ristretta. Quanto dici il luogo del ritrovamento dove è stata trovata la macchina? Ma presumo in linea d'aria 400 metri, 500 metri a valle. A piedi raggiungibili in un minuto c'è un sentiero oppure no? No, a piedi... Io posso ragionare con la mia testa, non so che cosa passava per la testa... C'è un sentiero oppure li devi lanciare? No, ci deve attraversare pure un po' di vegetazione. Ci sono scadanti se non vorrei di trovarlo vivo? Io me lo auguro, me lo auguro, me lo auguro però... Speriamo che sia ancora in vita.